Questa è la coda del pente che va giù dal monte per il tuo valera, la coda mette il rito, ui! Ui? Francese? Che ha perso un dì? L'ha perso un uigno. Ma dimmi un po'. Ma dimmi un po'. Sei forse tu quel pezzettino? Tu, il mio codice! Questa è la coda. Vi fai vedere che cosa stai facendo con queste cosine qua? Come si chiama? Vasetti. Sì, ma vasetti di? Di cosa? Perché anche questi vasetti sono molto scorsi. Emma ha due anni e sta giocando con il pongo. E sta giocando con il pongo. Pongo che è? Mi fai vedere com'è questo pongo? Oh, che idea! Bellissimo! Brava! Oh, come sei brava! Cosa stai facendo? Sto facendo questo nodo. Un nodo. Per ricordarti cosa? Per ricordarti cosa? Che cosa? Perché le serpente si salute con questo nodo. Dove lo mette sto serpente? Ah, il serpente sul braccio. Perché qua c'è una febbre. Sì, sì. Saluto a tutti. Dai, ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio!